Ciao a tutti amici ma soprattutto nemici del momo surf e benvenuti a questo nuovo video acquisti manga fumetti il solito appuntamento mensile dove vi mostro appunto i fumetti che ho acquistato nel corso del mese in questo caso parliamo del mese di settembre anche se siamo un pochino in ritardo per problemi tecnici come al solito lascerò per ultimi il fumetto che ho apprezzato di più e quello che ho apprezzato di meno ovvero il migliore e il peggiore con la sola differenza rispetto ai mesi scorsi che da questo mese rientreranno nel gruppo del migliore e il peggiore tutti i fumetti che ho acquistato in sostanza verranno anche recuperati cominciamo subito con gli acquisti e vorrei cominciare da un fumetto che mi avete consigliato voi e del quale vi ringrazio moltissimo si tratta di Eds in quattro volumi edito da Planet Manga un manga molto molto maturo che mi è piaciuto tantissimo una storia molto molto interessante il protagonista in seguito ad un incidente rischia la morte a causa di un proiettile alla testa ma diventa ovviamente a sua insaputa il primo paziente al mondo a prestarsi ad un trapianto di una parte di cervello da lì nasceranno tutti i suoi problemi legati appunto all'avere una parte del cervello di qualcun altro all'interno della propa testa alla fine del quarto volume troviamo anche tre storie brevi dello stesso autore mi sono piaciute moltissimo anche quelle in sostanza vi consiglio assolutamente di recuperare Eds e vi ringrazio ancora del consiglio rimanendo sui manga e su Planet Manga Lupin terzo volume 6 in realtà non c'è moltissimo da dire ancora su questo fumetto ovviamente non è che la trama possa fare chissà quale salto come vi ho detto ogni volume è un insieme di tante piccole storie su Lupin che cominciano peraltro ad essere sempre più slegate una dall'altra mentre prima sembrava quasi che seguissero un filologico ora non lo fanno più quello che comincia a non piacermi molto di questa edizione di Lupin che è la prima di Monkey Punch è che ha i disegni sono sempre più confusionari sono molto nello stile dell'epoca in cui è uscito la cosa mi piace c'è da dire però e qui forse è un po' un torto dell'autore che i personaggi sono tutti molto simili tra loro cioè qua distinguete solo Lupin per il resto ogni volta che vedete una donna disegnata sembra di vedere Fujiko e in realtà poi magari non è lei è allo stesso modo gli altri personaggi nel senso sono tutti molto molto uguali tra loro comincia tra virgolette ad annoiare se non fosse che si legge molto molto in fretta potrebbe annoiare sempre per i manga sempre per Planet Manga il volume 15 di Assassination Classroom un volume che mi è piaciuto come vi dicevo fino allo scorso volume c'è stato un po' di allungamento del brodo invece qui finalmente torniamo a vedere qualcosa della trama principale e soprattutto cominciamo finalmente secondo me ad avvicinarci al finale siamo al quindicesimo volume io credo si possa arrivare al massimo a 20 o giù di lì non di più finalmente un volume pieno finalmente un volume che fa venire voglia di leggere il prossimo perché ci verrà svelato un qualcosa che noi vogliamo assolutamente conoscere che appunto andrà finalmente a chiarire un po' quello che potrebbe essere il finale di Assassination Classroom che è un manga sì divertente allegro scanzonato ma allo stesso tempo ha avuto il merito fino al quindicesimo volume di farci chiedere ma cosa sta succedendo veramente quale potrebbe essere il finale e non ci ha dato ancora alcun indizio se non qualcosina che viene svelato finalmente qui è probabilmente chiarito nel prossimo volume sempre per i manga questa volta J-Pop The Rising of the Shield Hero un quarto volume che non mi ha entusiasmato molto c'era stato un bel colpo di scena nel terzo volume che viene smentito in questo per il resto devo essere onesto la trama di questo quarto volume non mi ha fatto impazzire sembra essersi un pochino impantanato non che mi aspettassi grandi cose da questo manga ma non mi è piaciuto molto stacchiamo un attimo dai manga e passiamo a due parodie dei Denti Blu ovvero Kill Pig, Zanna Blu io sono molto affezionato a questo tipo di parodie alle parodie dei Denti Blu con Zanna Blu questo Kill Pig mi è piaciuto un po' meno è sì divertente ma non so ci ho trovato forse meno impegno mi sembra un po' più buttato lì del tipo sfruttiamo i diritti di Kill Bill battiamo il ferro finché è caldo quando ovviamente è uscito ma in generale non mi ha fatto molto divertire non ci ho trovato tutta questa inventiva mentre alcune gag sono molto simpatiche sempre Zanna Blu invece Spider-Man l'incredibile uomo grugno questa mi ha divertito decisamente di più le gag sono sempre molto simpatiche i disegni come per l'altro volume sono sempre ben fatti e divertenti sono sempre piacevoli da vedere totalmente in bianco e nero ma veramente veramente ben realizzato questo mi ha divertito decisamente di più sono volumetti molto sottili si leggono in fretta sono divertenti non costano poi molto siamo sempre intorno ai 4 euro qualcosina in più qualcosina in meno non so se sono ancora tutti recuperabilissimi ma quelli recuperabili guardate anche su Amazon si trovano altrimenti allucca tutto ciò che è disponibile lo trovate sempre allo stand dei Denti Blu rimaniamo sull'edizione di Denti Blu con Trizia di Pedro Perez autore spagnolo è una sorta di commedia sexy sembra quasi di leggere l'inizio di una commedia sexy all'italiana anche l'ambiente è molto italiano nonostante sia ambientato in Spagna mentre la protagonista appunto Trizia è molto spagnola è una disegnatrice che inizia a lavorare per una software house che si occupa appunto dello sviluppo di videogiochi ovviamente è un ambiente molto maschile lei è un po' questa sorta di bomba sexy disegni molto molto ben realizzati storie divertenti l'unica pecca forse che ho trovato è che finisce molto molto in fretta nel senso che non sono moltissime pagine per il corso di 10 euro è molto ben realizzato un'edizione di qualità sicuramente però ecco la storia non tanto per il numero di pagine è proprio la storia che non fa grandi passi nel corso di questo volume certo si legge per divertimento non perché ci sia dietro chissà quale trama però ecco all'interno di un intero volume c'è proprio un pizzico di storia tanto è vero che vi ho detto che sembra quasi resistere all'inizio di una commedia erotica all'italiana però è comunque un buon acquisto lo consiglio chi piace il genere commedia eccetera tornando un attimo ai manga per Goen il quinto numero di Food Wars un manga che a me continua a piacere leggero si lascia leggere molto tranquillamente continua a trovarci gli stessi difetti trovati nei precedenti quattro volumi ovvero questo fanservice esagerato di cui già vi ho parlato però continua comunque a piacermi lo leggo sempre molto volentieri la trama nonostante si tratti di cucina la trama è carina e si aspetta sempre con piacere il volume successivo di conseguenza non posso che consigliarvelo nuova uscita volume 1 di Erased sicuramente molto interessante 5,90 euro per Star Comics con sovra copertina molto molto ben realizzato storia piuttosto interessante c'è questo ragazzo che è un consegna pizze e ha uno strano una sorta di strano potere in sostanza lui quando c'è del pericolo cioè sta succedendo qualcosa di pericoloso intorno a sé il tempo per lui si blocca e comincia a ripetersi gli ultimi magari 30 secondi della sua vita continuano a ripetersi in loop finché lui non trova che cosa ha causato quello che sta succedendo di modo che lui potrà riparare a quello che sta succedendo finché non succederà un qualcosa di brutto proprio a lui al quale non riuscirà a rimediare a scoprire che tutto questo è anche legato a ciò che gli è successo nel passato questa è la trama presa molto alla larga del manga che sembra molto interessante di conseguenza è un volume 1 che vi consiglio di acquistare perché potrebbe essere una serie interessante da seguire durante l'inverno è ancora in corso anche in Giappone se non ricordo male sono arrivati al sesto o settimo volume o giù di lì secondo me per il momento merita una chance sempre Star Comics il volume 9 per ferite il new edition l'edizione bianca mi continua a piacere certo non è lo shonen della vita però continua comunque a piacermi adesso siamo in una fase di transizione tra una saga appena finita e una saga che deve cominciare questo volume 9 è molto di transizione nel senso che è un insieme di storielle di capitoli quasi extra messe tra una saga e l'altra per allungare un po' e accompagnarci alla saga successiva non succede nulla di che tra virgolette però nonostante questo si legge con piacere di conseguenza non può che essere un giudizio positivo BAU Publishing Lumberjane quattro autori molto interessanti tra cui Noelle Stevenson l'autrice di Nimona che mi è molto piaciuto un volume molto carino davvero ben realizzato disegni molto colorati e molto ben fatti in sostanza parla di di queste appunto ragazze che frequentano una sorta di campo scout estivo le quali intraprenderanno loro malgrado un'avventura neanche troppo loro malgrado in realtà perché vanno a caccia di avventure ma un'avventura molto particolare nel senso che incontreranno bestie aliene quasi non so non si capisce esattamente ancora il perché della presenza di questi strani animali con tre occhi creature stranissime c'è un po' di tutto alla fine del volume si inizia appunto a capire che cosa sta per succedere ma dovremo aspettare il prossimo volume per saperne di più ad ogni modo consigliatissimo sempre per Bao Zero Calcare 12 è un'opera un pochino diversa rispetto a quelle a cui siamo abituati di Zero Calcare a differenza di come dicono molti di come la giudicano molti molti dicono che fa schifo che è la cosa peggiore che Zero Calcare abbia pubblicato eccetera in realtà non è non fa schifo è una bella opera è un bel fumetto parla di questa apocalisse zombie a Roma dove lui e i suoi amici cercano di sopravvivere appunto all'attacco zombie il protagonista in realtà in questo caso non è Calcare ma è secco il suo amico ed è un bel fumetto si legge si legge con molto piacere è anche è più breve rispetto ai canoni di Zero Calcare ma è davvero davvero ben realizzato semplicemente non è la solita opera di Zero Calcare è consigliata a perché di Zero Calcare quindi come vi ho detto vi consiglio di recuperare tutto ciò che lui ha pubblicato B perché è un bel fumetto e merita di essere letto sempre per Bao Paper Girls volume 1 che è l'insieme degli spillati usciti in America se non mi sbaglio sono 6 spillati quindi 6 capitoli ma potrei ricordare male molto apprezzato credo abbiano deciso di farlo uscire in questo momento non è uscito questo mese però è comunque recente che abbiano deciso di farlo uscire in questo periodo perché ricorda molto per le ambientazioni eccetera la serie tv recentemente uscita su Netflix Stranger Things appunto queste 4 ragazze Paper Girls che sono le ragazze che consegnano i giornali si ritrovano è ambientato vabbè negli anni 80 se non credo male nell'88 si ritrovano invischiate in una sorta di invasione aliena non si capisce ancora benissimo che cosa stia succedendo ma lo scopriremo più avanti anche in questo caso mi è molto piaciuto i disegni sono molto ben fatti tutte le tavole sono a colori peraltro sono molto ben caratterizzati i personaggi interessantissimo vedere come interagiscono con nemici e amici che incontreranno amici che scambieranno per nemici e viceversa molto molto interessante soprattutto fa davvero venire voglia di leggere il successivo quindi lo aspetteremo con ansia tornando ai manga tornando a Star Comics Freak Islands volume 3 storia che è iniziata molto molto bene proseguita discretamente bene nel volume 2 a mio avviso si sta un po' perdendo in questo terzo volume spero si riprenda il genere il classico genere pauroso in tra virgolette mezzo thriller in realtà la tensione si è praticamente persa e l'interesse per la storia stessa sta calando perché comunque comincia ad essere un po' ripetitiva e soprattutto impantanata almeno in questo terzo volume non si sono fatti grossi passi avanti ma vedremo come andrà a finire sì un pezzetto di colpo di scena finale c'è che ti fa dire chissà cosa succederà ma neanche troppo essendo un thriller dovrebbe tenerti incollato e questo terzo volume sicuramente non ce la fa naturalmente non può mancare il volume 80 di One Piece One Piece si legge sempre stravolentieri fantastico in questo caso vabbè l'avrete letto tutti comunque siamo in una fase di transizione tra la vecchia saga e la nuova saga si cominciano a intravedere gli albori della nuova saga interessantissima da quel poco che si è visto ma ne sappiamo ancora veramente veramente poco aspettiamo il prossimo volume per dettagli e di questo si può parlare relativamente poco perché appunto è proprio in mezzo tra una saga e l'altra è proprio il classico volume da staffetta siamo quasi arrivati alla fine recupero Luca Conca Urlo nel Buio volume fantastico credo che difficilmente potrete recuperarlo perché era un'edizione limitata potreste provare sul sito di Passenger Press che è l'editore oppure a Luca allo stand di Passenger Press perché ve lo consiglio vivamente è un fumetto che si legge veramente in 5 minuti ma ne vale davvero la pena e soprattutto vi verrà voglia di rileggerlo come vedete è un'edizione limitata in appunto 100 copie quello che colpisce è innanzitutto lo stile dell'opera sembra quasi disegnata a penna non so come dirvi ma poi è fantastica anche la storia ogni tanto compaiono gli acquerelli è veramente uno stile uno stile meraviglioso è bella la storia da leggere è onirico è pauroso è bello è bello bello ve lo consiglio assolutamente passiamo quindi il mio malgrado al peggiore del mese che è Otaku Teacher volume 3 se ricordate i video precedenti del primo volume ho detto che l'ho trovato interessante divertente anche se non riuscivo bene a capire dove volesse andare a parare non si capiva molto cosa stesse succedendo ma il primo volume serviva più che altro a presentare l'ambiente di personaggi quindi andava bene così del secondo volume vi ho detto che l'ho trovato comunque divertente anche se ancora non si capiva dove volesse andare a parare ma io ho lasciato il beneficio del dubbio del terzo volume si continua a non capire nulla della trama di cosa debba succedere dove appunto voglia andare a parare l'autore quindi del terzo volume posso dire che ha veramente scassato la micchia perché in tre volumi neanche troppo sottili vi assicuro non succede proprio nulla c'è questo professore otaku che diventa professore senza neanche volerlo che fondamentalmente risolve i problemi dei suoi studenti davvero non succede nulla perché oltretutto i casi chiamiamoli casi che troviamo nei capitoli di volta in volta non sono neanche così interessanti hai la costante sensazione che sta aiutando questo perché poi entra a far parte del suo gruppo dei personaggi principali in realtà lui aiuta una persona poi non la vediamo più si passa a qualcos'altro continuamente così e soprattutto tra una storiella e l'altra non c'è una trama di fondo che li collega se non il fatto che lui è il professore di questa scuola che ha una preside molto strana che appunto l'ha voluto come professore e continua a volerlo ma non succede veramente nulla disegni molto carini ben fatto quello che volete però davvero non va da nessuna parte io vi lascio ancora il quarto volume per capire se il quarto volume sarà simile ai primi tre penso che potrei anche smettere di comprarlo perché davvero sta diventando il nulla passiamo invece finalmente al migliore del mese che poi è anche l'ultimo che vi mostrerò questo mese l'autore è Boulet l'editore è Bao Publishing e parliamo di Appunti di vita volume 1 Born to be a larva qualcuno di voi lo avrà già sentito nominare io indubbiamente ve lo consiglio innanzitutto perché si tratta della raccolta delle strisce eccetera che Boulet l'autore pubblicava sul suo blog dall'inizio quindi dal 2004 fino al 2006 la raccolta di tutto ciò che lui ha pubblicato ma soprattutto perché è l'autore da cui Zero Calcare è stato molto influenzato per la realizzazione delle sue opere è un autore francese tant'è vero che all'inizio c'è anche la prefazione di Zero Calcare e ve lo consiglio vivamente perché se vi piace Zero Calcare non può non piacervi Boulet perché effettivamente si rivede molto di Zero Calcare in Boulet ma poi anche perché è veramente divertente nonostante l'autore sia francese si ritrovano tutte le situazioni in cui spesso e volentieri ci ritroviamo anche noi italiani è proprio come leggere un'opera di Zero Calcare in una chiave un po' diversa naturalmente non sto dicendo che Zero Calcare abbia fatto le sue opere identiche a questo non avrebbe avuto senso sono molto diversi tra loro ma è molto simile il genere quindi se vi piace uno deve necessariamente piacere anche l'altro in più è molto molto ben realizzato e divertente quindi assolutamente ve lo consiglio con questo volume anche questo mese abbiamo finito ci scusiamo per in ritardo e dal prossimo mese cercheremo di essere più puntuali peraltro devo ancora decidere visto che a fine mese andremo a Luca Comics se fare un video acquisti solo per Luca Comics e uno generale oppure mettere insieme le due cose dobbiamo ancora capire ringrazio nuovamente chi mi ha consigliato degli acquisti e se sono tutti così validi vi chiedo di continuare a consigliarmeli come sempre se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale commentate ciao a tutti e alla prossima iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale